Un cordiale saluto dalla redazione di Arezzo TV, benvenuti al nostro consueto appuntamento con l'informazione in apertura alla cronaca. Stefano Migliorati, 43 anni ancora da compiere, originario di Cortona, è morto venerdì sera in seguito ad un incidente stradale in Trentino. L'uomo che lavorava nel settore della ristorazione come cameriere stava percorrendo la strada provinciale 251 nei pressi di Madruzzo in Valle dei Laghi, quando ha perso il controllo dell'auto schiantandosi contro un muro di pietra e morendo sul posto poco dopo per la gravità delle ferite riportate. I soccorsi sono stati allertati da un altro automobilista di passaggio che ha assistito all'incidente. Sul posto i carabinieri, i soccorritori di Trentino Emergenza e i vigili del fuoco. Per Migliorati però non c'era più nulla da fare. Al vaglio degli inquirenti la possibilità che ci sia anche stato un malore. La comunità cortonese raggiunta dalla notizia è attonita e addolorata. Migliorati era molto conosciuto e stimato in città. E adesso la cronaca giudiziaria uccise moglie e suocera ad Arezzo Alvia il processo in corte d'assise. I familiari chiedono giustizia. C'era per noi Chiara Sadotti. Era succube di questa persona da 15 anni. Noi non si vuole né soldi né niente. Si vuole giustizia e tanta per la mia sorella, per la sua mamma, ma anche per tutte le donne che sono in giro. A chiedere giustizia sono i familiari di Sara Ruschi e Brunetta Ridolfi, le due donne massacrate e accoltellate in un appartamento di via Benedetto Varchi. Si è aperto questa mattina in corte d'assise il processo a Giaval di Sciam, rinchiuso nel carcere di Prato con la pesantissima accusa di duplice omicidio aggravato dalla convivenza stabile. Ammazzate due, io vorrei che gli dessino una pena molto alta. L'ergastolo. Non è stata riconosciuta la premeditazione, ma per il 38enne non si configura la possibilità di un rito alternativo. Troppo gravi reati di cui si è macchiato. All'esito dell'istruttoria, la difesa ha già annunciato che chiederà una perizia psichiatrica. È un messaggio brutto per tutti gli altri, perché basta drogarsi, bere, ammazzare la gente che vieni scarronato o quantomeno ti diminuiscono le pene. L'omicidio della compagna e della suocera del 38enne si consumò di fronte agli occhi dei figli della coppia, un ragazzo di 16 anni e una bambina di 2. Determinante sarà proprio la testimonianza del ragazzo, già cristallizzata in incidente probatorio. Gli hanno dato tutto e lui ha ucciso le persone che gli hanno dato tutto. Nel processo si sono costituiti parte civile i familiari delle due donne uccise accompagnati dall'avvocato Alessandra Panduri dell'associazione Senzaveli sulla lingua. Per il riconoscimento anche dei danni, in quanto i minori sono persone offese ma anche danneggiate dal reato, quindi vittime primarie che non ci sono più, ma i minori rappresentano le vittime secondarie e in quanto tali hanno diritto di essere risarciti in quanto danneggiati. Prossima udienza il 18 novembre, previsto l'esame dei testimoni. Ancora a cronaca un altro incidente. Si tratta di una ciclista di 40 anni che è stata a soccorsa oggi pomeriggio in una zona impervia nei pressi del passo delle Petrelle nel comune di Chiusi della Verna a seguito di una caduta. I mezzi dell'emergenza urgenza l'hanno trasportata con l'elisoccorso Pegaso 2 all'ospedale San Donato di Arezzo in codice giallo. Intervenuti sul posto l'ambulanza infermierizzata di Stia, l'elicottero Drago dei Vigili del Fuoco e il soccorso Alpino. E andiamo a Cortona dove il comune chiede chiarimenti alla soprintendenza per il restauro del dipinto di Bartolomeo della Gatta. Ce ne parla in questo servizio Grata Settimelli. Il comune di Cortona nell'Aretino ha chiesto chiarimenti alla soprintendenza in merito al restauro del dipinto Madonna con Bambino attribuito a Bartolomeo della Gatta. A scrivere la lettera è stato l'assessore alla cultura del comune di Cortona Francesco a testi contestando le modalità con cui è stato realizzato il restauro. Le foto non lasciano dubbi, afferma a testi, sulla decisione da parte della restauratrice di aggiungere dettagli e operare arbitrarie ricostruzioni. Credo che alla luce delle più recenti tecniche di restauro e alla luce del giudizio ormai condiviso da tutta la comunità scientifico-artistica non siano tollerabili tali interventi. Mi meraviglio prosegue a testi che l'Accademia Etrusca, avendo seguito e visionato le fasi del restauro, non abbia segnalato questa situazione. L'opera fu donata al Mike dalla famiglia Tommasi Agliotti e perciò la proprietà è condivisa fra il comune e l'Accademia Etrusca. Attualmente si trova esposta al Free Jones Museum in Oklahoma e farà rientro a Cortona il prossimo marzo 2024. Il comune valuterà, si legge nella nota, con perizia se il restauro possa configurare un danno patrimoniale, non eventuale danno di immagine e al patrimonio storico-artistico. E adesso torniamo ad Arezzo perché c'è grande attesa per l'edizione autunnale del Grande Mercato delle Pulci in città, in programma domenica prossima al Centro Affari. Tanti gli espositori che sono rimasti senza una postazione, quest'anno infatti l'adesione è stata record. Ce ne parla Chiara Sadotti. Sono arrivati tanti giovani che ci hanno chiesto, ah ma è una cosa tipo Vinted, nel senso che loro hanno conosciuto prima l'app della Cosa Reale, ma è questo il valore aggiunto, che l'usato ormai è decisamente qualcosa da perseguire, qualcosa di utile, però il fatto di poterlo fare di persona e di conoscere le persone non è una cosa da poco. Una piccola Portobello in salsa retina, o per dirla all'italiana, un mercato di porta portese. Anche Arezzo ha così il suo punto fermo, il mercatino delle Pulci. Decisamente però io direi con una giunta sociale, cioè avevamo chiaro in mente l'idea di far stare insieme le persone e di lavorare sul benessere e sulla cittadinanza. Un mercato nato 12 anni fa come svuota soffitte, oggi diventato un vero e proprio appuntamento fisso per gli aretini, ma non solo. Possiamo dirlo a gran voce perché soprattutto per questa edizione sono rimaste fuori centinaia di persone, le richieste iniziano ad arrivare da tutta Italia, la parola diciamo si diffonde perché poi la cosa più curiosa è che moltissime persone ci chiamano proprio perché altri amici hanno fatto questa esperienza e quindi la consigliano. Il filo conduttore è l'usato, è l'uso consapevole, è il riciclo, è il riuso, ma tutto questo lo scambiarsi poi fa modo che lo scambio avvenga anche in termini umani. In tutto saranno sei i padiglioni per questa edizione. Ci sarà anche quello del vintage di qualità dove ci sono proprio i negozianti da tutta Italia, poi dopo gli svuota soffitte continuano a farla da padrona, per la maggior parte sono aretini, sono 500, ma come dicevamo prima insomma con centinaia di persone veramente rimaste fuori questa volta. Come sempre tante anche le collaterali. Siamo qui nel nostro corridoio basariano perché qui ospitiamo l'espo artistica ma soprattutto le tantissime raccolte fondi, nel senso che ci sono almeno una ventina di associazioni della città che in quella giornata raccoglieranno fondi per le loro attività. Una serata Villa Severi per sensibilizzare sulle donazioni del sangue, vediamo. Una serata di musica, buon cibo, convivialità ma soprattutto sensibilizzazione verso la donazione di sangue in favore della Frates. Appartiene a tutti, è un patrimonio di tutti che bisogna cercare di gestirlo al meglio e di mantenerlo al meglio e quindi cercare i fondi per loro affinché garantiscano per tutti noi, questo è il minimo che potevamo fare. Un tema in questi giorni più che mai attuale, dopo l'appello social di Fedez si è infatti registrato un vero e proprio boom di richieste ma di sangue c'è ancora bisogno. Sono quelle iniziative come tante altre che abbiamo fatto di carattere sociale che sono importanti, quindi la donazione di sangue che tutti, soprattutto i giovani, dovrebbero intraprendere come percorso è molto importante, per cui noi la sosteniamo con forza. Io stesso sono un donatore della Frates e quindi mi fa piacere poter partecipare a questa iniziativa. Ad ospitare la manifestazione che ha visto anche l'intrattenimento della banda Medici e la musica è stata Villa Severi. Fra un bicchiere di neve e un caffè come si deve, questo inverno passerà e se l'amore che avevo non sa più il mio nome. Quando vediamo tanta gente venire qui, incontrarsi per queste finalità è sempre una bella cosa perché la donazione di sangue è una cosa importante da sostenere perché molte volte una donazione salva la vita a una persona. Adesso spostiamoci a Foiano della Chiana, lavori ai giardini pubblici del Castellare. Sono stati presentati questa mattina un intervento di oltre 190 mila euro, cofinanziato di 70 mila euro grazie al bando spazi attivi della Fondazione CR Firenze che cambierà il volto di questo amato polmone verde di Foiano. Prevista la costruzione di un chiosco bar con nuovi servizi igienici pubblici accessibili, l'installazione di un palco, il rifacimento e l'ampliamento della pista, la realizzazione di nuovi percorsi pedonali sicuri e accessibili per raggiungere il parco e per viverlo al meglio anche da parte delle persone di inversamente abili o con difficoltà motorie. In aderezzo è stato presentato il libro La ragazza del bosco, la verità oltre l'inganno scritto da Roberta Bruzzone e Federica Nardoni sul caso di Serena Mollicone. Vediamo. Serena Mollicone era una giovane ragazza, dieciottenne, che amava la vita, amava gli animali, amava la musica, suonava nella banda del paese, si apprestava a vivere l'anno più bello che è quello che prelude all'università, infatti si sarebbe iscritta a settembre in una facoltà universitaria, stava appunto preparando la tesina quando è stata assassinata. L'omicidio di Serena Mollicone, uno dei casi di cronaca nera che ha scosso per oltre 20 anni l'opinione pubblica. Una vicenda al centro del libro La ragazza del bosco, verità oltre l'inganno. Un testo nato dall'esperienza di Roberta Bruzzone, psicologa forense e criminologa investigativa e di Federica Nardoni, avvocato penalista esperto in reati contro la persona. Il libro è stato presentato ad Arezzo nel corso della nuova stagione di incontri organizzati dall'Associazione Cultura Nazionale. È un caso ancora aperto, ci sono gli appelli, c'è ancora un processo in corso per dare il piena luce a quello che è successo a questa povera ragazza. Sabrina Mollicone scomparve a metà mattina del 1 giugno del 2001, due giorni dopo fu ritrovata a cadavere nella tarda mattinata in località Fonte Cupa a Fontanaliri in provincia di Frosinone. La morte è stata determinata da asfissia meccanica dovuta a un colpo contro una superficie piatta che secondo noi è la porta della caserma di Arce. Il Tribunale di Cassino aveva assolto in primo grado tutti e cinque gli imputati per insufficienza di prove. A finire sotto processo l'ex comandante della caserma dei carabinieri di Arce, la moglie, il figlio e due carabinieri. A breve si aprirà il processo in corte d'appello. Questo processo ha sempre destato l'attenzione della Procura perché Guglielmo Mollicone è stato un papà coraggio, il papà di Serena e non si è mai arreso. Quindi anche quando ci sono state delle battute processuali di arresto comunque ha sempre evidenziato nuove prove. A seguito dell'archiviazione e dell'opposizione dell'archiviazione formulata da Guglielmo Mollicone sono state eseguite delle consulenze scientifiche che hanno permesso di celebrare l'attuale processo. E a Zenzero Fest invece ospite Marco Gaetani che ha ricordato Gianluca Vialli, un campione che ha unito anche nel mondo del calcio. Ha saputo conquistare l'affetto dei tifosi non solo con le sue imprese sportive ma anche per la persona che era e questo è arrivato al cuore di tantissimi italiani ben prima della sua chiusura con la nazionale e poi per quello che è successo e lo ha fatto sempre con una grande onestà e penso che questo abbia toccato molte persone al di là del tifo sportivo. È stato un pomeriggio dedicato ad una leggenda del calcio, Gianluca Vialli, quello messo in calendario ad Arezzo nel programma di Zenzero Fest. Il libro è stato quello scritto dal giornalista del Foglio Marco Gaetani, Gianluca Vialli, l'uomo nell'arena. Quale periodo è stato per Gianluca Vialli la Juventus? È stato un periodo molto difficile all'inizio, è molto bello alla fine, sono stati quattro anni quasi opposti, i primi due molto faticosi con Trapattoni, gli ultimi due bellissimi con Lippi, Vialli è tornato a essere un leader, un protagonista e nella mente dei tifosi della Juventus Vialli è l'ultimo capitano dell'ultima Champions League vinta e quindi l'immagine di tutti è Vialli in maglia blu con le stelle gialle sulla spalla che alza al cielo di Roma la Champions League e questo rimarrà nel cuore dei tifosi della Juventus per sempre. È sembrato anche dopo l'addio ultimo di Mancini alla Nazionale eccetera, dopo quel famoso abbraccio con la vittoria dell'Italia in Inghilterra, è sembrato quasi che Vialli fosse, ora forse si è capito, una componente assolutamente importante di quella vittoria. È stato fondamentale, lo ha fatto in un ruolo che è sempre stato molto importante nella storia del calcio italiano perché prima di lui è stato Gigi Riva, capo delegazione e Vialli ha tenuto insieme quel gruppo. L'Italia ha vinto l'Europeo seguendo l'allenatore Mancini e seguendo il condottiero Vialli e forse sì, quando non c'è stato più Gianluca magari si è perso un po' di quella magia che abbiamo vissuto in un'estate così strana come quella del 2021. Tra l'altro in quel abbraccio si è capito anche quanto Mancini avesse preso di forza da Gianluca Vialli. Il loro rapporto è durato tantissimi anni e poi per come l'hanno raccontato entrambi nel periodo della malattia di Vialli loro si sentivano spesso ma senza parlare della malattia, era come se Mancini fosse una sorta di rifugio, di oasi per Vialli in quei momenti e poi però hanno condiviso talmente tanto che tutto quello magari che non si sono detti per mesi se lo sono detto in un abbraccio. E continuiamo a parlare di libri, partenza con il Botto per uno, nessuno e centomila e i cento di Calvino che già dalle primissime ore a Castiglione Fiorentino si è rivelato un grande successo registrando un alto grado di affluenza nelle strade e nelle piazze castiglionesi diventate per l'occasione vere e proprie librerie a cielo aperto dove acquistare libri al costo simbolico di un euro. Questa quarta edizione dedicata alla figura di Calvino si è aperta con una raccolta di oltre 10.000 libri donati dichiara l'assessore alla cultura castiglionese Massimiliano Lachi la grande novità di quest'anno vede grazie alla collaborazione di Unitre, Proloquo, Entesi Ristori e Gruppo Archeologico della Valdichiana un riassortimento continuo delle bancarelle che permetterà ai visitatori di trovare sempre nuovi titoli disponibili anche per tutta la giornata di domani. La manifestazione dunque si protrarrà anche nella giornata di domenica. E adesso passiamo allo sport, partiamo dal calcio. Paolo Indiani ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita con la Recanatese che sarà giocata a Recanatese alle 16.15. Ascoltiamo le parole del mister. Sì, siamo tornati al sintetico per due motivi. Uno perché giochiamo sul sintetico e poi per preservare lo stadio. Io essendo stato 50 a Ponte d'Era lo so che è un vantaggio. È un vantaggio notevole perché ti ci alleni sempre e alla lunga paga sicuramente. Però non credo che questo determinerà sia la causa se loro ce la fanno andare a vincere, sia questo il motivo. Assolutamente. Il motivo è chi è più bravo in campo, il giocatore, ma certamente il carattere dell'erba sintetica naturale. L'unica senza scelta è il settembrino di scuola di grado. È chiaro, uno dei caratteristi settembrini, mi sembra che sia nella nostra rosa, un alter ego mi sembra non ci sia. E' chiaro che per forza dovrà giocare un'altra o un'altra eratteristica. Sì, hanno fatto due vittorie, non se vuol dire. E questo è il punto fondamentale. Le spalle in casa e i miei cuori sono salute e stanno bene. Però vedremo di rendergli la vita difficile, ma abbiamo fatto in tutte le precedenti anche domani. Proprio l'ultimo dei miei pensieri, se ci crede, potrei dire che non conosco nemmeno come siamo. Chi è vicino a noi mi punti avanti e dietro. Non la guardo mai. Non la guardo mai. Andiamo avanti partita per partita. Mi preoccupa la partita di domani. Gioia Monti è una buonissima squadra che è in salute. Non certamente era la Siria dopo pochissime giornate. E adesso passiamo al calcio femminile. Mister Mike Racleus ha diramato la lista delle 21 convocate che prenderanno parte a Genova Women ACF Arezzo in programma domani alle 16 allo stadio Nazario Gambino di Arenzano, Genova. Ascoltiamo il mister. La partita di domenica scorsa era un passo più vicino a quello che vogliamo fare qui. Ho visto una squadra con la mia identità, con la mia DNA. Quello mi fa molto piacere. Abbiamo dato anche una piccola analisi con le ragazze. Tutte le belle cose che hanno fatto, veramente in questi 94 minuti. Era un po' rock and roll. Era un po' con questo pressing, con questa intensità. quella dobbiamo partire da lì ora. Questo è il punto di riferimento ora. Soprattutto questi 45 minuti contro la Lazio che abbiamo fatto. Quindi partiamo da questo punto di riferimento. Prendiamo tutti questi positivi, tutte le cose che abbiamo fatto. e li mettiamo nella nostra partita di trasferta a Genova. Genova è sempre una squadra molto molto forte. Hanno fatto un buon mercato questa estate. I investitori della squadra vedono molto bene. Hanno un bellissimo progetto anche lì. Si vede questo. Hanno una rosa forte. e aspettiamo una gara intensa. E' una squadra che ha tre punti anche come noi. Quindi sì, noi andiamo lì per dare tutto. E per fare un risultato positivo. Il gran giorno dell'intrepida 2023 è finalmente arrivato a D'Anghiari. E ha cominciato ad accogliere i tantissimi ciclisti che domani, domenica 15 ottobre, pedaleranno su tre percorsi che caratterizzeranno la cicloturistica su bici d'epoca organizzata dal gruppo sportivo Fratres Dynamics Bike. Al momento, ma il dato è ancora parziale, gli iscritti stanno viaggiando verso quota 900, numero formidabile che avvicina il record dei mille iscritti fatto registrare in epoca pre-Covid. La partenza sarà alle 8.45 da Piazza Baldaccio, sulle solenni note dell'inno nazionale italiano suonato dalla banda della filarmonica Pietro Mascagni. Al via anche i campioni delle due rote che hanno fatto sognare milioni di appassionati di ciclismo. Stiamo parlando di Francesco Moser, Gianni Bugno, Gian Battista Baronchielli, Giorgia Bronzini e Fabiano Fontanelli. E in chiusura parliamo di motocross. Il trofeo delle regioni di motocross espremerà domani, domenica 15 ottobre, al circuito Miravalle di Montevarchi il suo verdetto designando la squadra che succederà al Veneto campione in carica. Oltre al fattore campo favorevole a far pendere la bilancia dalla parte dei padroni di casa è l'obiettiva competitività della formazione rappresentata da Floriana Parrini, tecnico della Federmoto in cui si distinguono due piloti della provincia di Arezzo. Si tratta di Nicola Matteucci di Sansepolcro, 31 anni appena compiuto, schierato nella classe MX1 con la sua Honda 454T. è di Fabio Occhiolini di Bibbiena, 55 anni, ai nastri della categoria Veteran Over 40 con una KTM 450 4T. La giornata clou del trofeo delle regioni 2023, che ha richiamato oltre 200 piloti in rappresentanza dei 21 comitati regionali e provinciali, vedrà la disputa alle 10.30 dalla manche decisiva. Gli organizzatori del motoclub Brilli Peri di Montevarchi hanno previsto l'ingresso libero per tutti. E con questo è davvero tutto per la nostra pagina dell'informazione. Vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Arrivederci.